Sistiamo pure noi! Sistiamo pure noi! Nascutto Bante Sistiamo che Quando condagor Sistiamo gol il lavoro non deve essere abbastato si deve alzare avvicinare il costo della lavoratoria sempre tu signora Maria come ci puoi aiutare ripeto il nostro non è un andare contro perché poi si tratta di guerra di poveri ora a parte gli scherzi non abbiamo nulla contro chi cerca di guadagnarsi il pane anche fuori da questo paese però ragazzi stiamo scherzando anzi per chi non è per chi non è ma non ci stanno vedendo se non cambierà la lotta dura sarà